Il sistema solare, seconda parte. Dopo averli realizzati con il DAS, i bambini potranno posizionare il sole di pianeti sul tappeto del sistema solare. Questa attività favorirà lo sviluppo delle capacità di osservazione, discriminazione e seriazione. Materiale occorrente. Un cartoncino blu abbastanza grande da contenere i pianeti e le loro orbite. Un cartoncino bianco, matite e pennarello, colori, potete utilizzare matite colorate, pastelli a cera, ad olio, eccetera. Compasso, forbici, una foto di ogni pianeta con nome. Prepariamo il tappeto del sistema solare. Sul cartoncino blu tracciamo le orbite, una per ogni pianeta, lasciando un po' di spazio al centro, dove verrà posizionato il sole. Prepariamo le sagome del sole e dei pianeti. Su un cartoncino bianco tracciamo le circonferenze del sole e dei pianeti, rispettando le grandezze delle spere realizzate. Coloriamo le sagome utilizzando gli stessi colori dei pianeti e ritagliamole. Posizioniamo le sagome nelle orbite, partendo dal sole, nell'ordine, Mercurio, Venere, Terra e Marte, e poi Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Ora i bambini potranno giocare ad abbinare ogni pianeta alla sua sagoma, riconoscendola per grandezza e colore. Sopra una striscia di cartoncino, sistemate le foto dei pianeti disposte in ordini di distanziamento dal sole. In questo modo i bambini potranno confrontarli con le loro immagini reali. Qui potete trovare le foto da stampare e ritagliare. Sopra una striscia di cartoncino, sistemate le foto dei pianeti e ritagliare.